Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 197esima puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi come sempre le principali notizie del mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa E' una puntata questa un po' particolare del podcast di Marcosbox perché non ci sono state molte notizie riguardanti strettamente il mondo Linux però ci sono delle notizie che riguardano via attraverso il mondo Linux che sono state pubblicate perché erano notizie molto importanti che ci tenevo a condividere con voi La prima è una notizia riguardante un regalo che Steam ha fatto qualche giorno fa a tutti quanti gli appassionati di una famosa saga videodudica C'è poi una notizia riguardante il futuro di Google Chrome e infine c'è una notizia un po' scherzosa, un po' poco seria però è una cosa simpatica da condividere ma vedremo a fine puntata di che cosa sto parlando e che cosa mi riferisco Se seguite già il podcast di Marcosbox su YouTube potete vedere che anche questa è una puntata video del podcast quindi oltre ad ascoltare la mia voce potete vedere il mio bel faccino e le notizie che di volta in volta vado a commentare Vi ricordo qualora non l'aveste ancora fatto di iscrivervi numerosi al canale YouTube di Marcosbox mettere tanti mi piace, condividere, attivare la campanella insomma tutte quelle cose che gli YouTuber navigati dicono ogni volta per incentivare il pubblico a seguire maggiormente il canale Fatelo perché sto vedendo dalle statistiche che moltissimi, anzi la stragrande maggioranza di chi visualizza il podcast di Marcosbox non è iscritto al canale, quindi tiratina d'orecchia voi scrivete, muovete scrivete così riempite il mio ego e mi aiutate anche a diffondere il verbo del software libero open source ma apriamo questa puntata, una puntata particolare come vi dicevo la prima notizia riguardante un regalo che Valve ha fatto a tutti quanti gli amanti della saga videoludica di Half-Life perché in occasione del ventesimo compleanno di Half-Life Valve ha regalato una copia digitale di Half-Life 2 a tutti quanti gli utenti che avessero fatto clic sul pulsantino per riscattare il gioco entro il 18 novembre quindi se adesso state ascoltando questa puntata del podcast di sabato, domenica, lunedì, insomma in questi giorni purtroppo non potete più riscattare il gioco siete arrivati tardi se invece seguite Marcosbox, seguite il canale Telegram di Marcosbox io questa notizia ve l'ho data praticamente in tempo zero, non appena è stata pubblicata e avete avuto modo di riscattare tanti sul canale Telegram mi hanno ringraziato per aver condiviso subito questa notizia e per avergli consentito di riscattare uno dei giochi più belli di sempre anzi, anche se poi l'episodio 1 di Half-Life è più bello dell'episodio 2 però vabbè, comunque, dettagli perché ho pubblicato questa notizia sulle pagine di Marcosbox? perché? perché Half-Life 2 è perfettamente compatibile con Linux lo potete scaricare e installare da Steam e ci potete giocare tranquillamente io, vabbè, oddio, è un gioco vecchio quindi è anche ovvio che il gioco funzioni bene che non ci siano problemi perché non ha requisiti tanto elevati però fa piacere vedere che gira perfettamente su Linux senza il minimo problema, quantomeno sulla mia macchina oltre al videogioco è stato pubblicato in regalo un video di oltre tre ore e mezza con interviste e contenuti esclusivi al team di sviluppo del gioco e abbiamo anche, potete vedere nel video che è disponibile sul canale YouTube di Valve cliccateci su link su Marcosbox perché l'ho condiviso vedete anche una nuova skin aggiuntiva per Geben vabbè, capirete questa frase non appena iniziare da vedere il video ed è un documentario interessante vedetelo, andatelo a vedere perché spiega tante cose e fa capire anche l'enorme lavoro che c'è di professione dietro a un videogioco noi spesso ci diciamo tutti quanti i videogiochi sono cose da bambini no, i videogiochi non sono cose da bambini sono prodotti di intrattenimento ma sono anche opere d'arte vere opere d'arte perché oltre alla tecnica informatica per realizzare il videogioco abbiamo tante, tante intelligenze che vanno a contribuire allo sviluppo del videogioco c'è chi scrive la trama, i dialoghi c'è chi è addetto alla regia c'è chi è addetto alla realizzazione delle musiche c'è chi è addetto alla realizzazione degli ambienti dei paesaggi, dei personaggi quindi lavoro grafico tante, 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 tante maestranze tanti professionisti che contribuiscono a rendere i videogiochi delle vere e proprie opere d'arte secondo me andrebbero anche valorizzate dalle istituzioni vabbè, io sono un vecchio nerd appassionato di videogiochi e ci sta che ne parlo in questo modo però secondo me è un pensiero condivisibile anche da molti di voi altra notizia altra notizia che poi è la notizia di cui vi parlavo all'inizio puntata che riguarda il futuro di Google Chrome perché il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti spingerà Google a vendere Chrome secondo Bloomberg News il sito Bloomberg News ha pubblicato questa indiscrezione vi ricordate la vicenda ve ne avevo parlato lo scorso agosto c'è stata una sentenza negli Stati Uniti da parte di un giudice federale che ha stabilito che Google ha monopolizzato illegalmente il mercato della ricerca il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti secondo questa indiscrezione di Bloomberg News sta spingendo affinché Google vada a vendere Chrome a chi non si sa come verrà gestito il tutto ancora è presto per dirlo così come è ancora presto per dire la parola fine a questa cosa perché ovviamente verranno presentati ricorsi e quant'altro c'è ancora tempo per pubblicare la sentenza da parte del giudice perché il giudice dovrà pubblicare la sentenza entro agosto del 2025 quindi le motivazioni finali e tutto il resto le vedremo l'anno prossimo così come vedremo nell'anno prossimo e negli anni successivi tutte le eventuali controcause per cercare di non far avverare questa cosa fra l'altro il giudice vuole fare anche la stessa cosa con Android con il sistema operativo Android quindi vedremo come si evolverà la vicenda la parola qual è? perché ve ne parlo sulle pagine di Marcosbox? perché uno degli scenari però ipotizzati sempre riguarda non la vendita di Chrome ma riguarda il divieto che il giudice potrebbe imporre a Google di stipulare accordi di esclusività per rendere Google il motore di ricerca predefinito su altri programmi su altri software perché è preoccupante questa cosa perché voi lo sapete Google ha principalmente due accordi uno con Apple per rendere Google il motore di ricerca predefinito di Apple e lo fa per ovvi ragioni perché i dispositivi della mera morsicata sono praticamente i più diffusi lato mobile che godono una certa riportazione specie negli Stati Uniti quindi ci tiene ad avere quel mercato e l'altro accordo di esclusività è quello che ha stipulato con la Mozilla Foundation e se dovesse prevalere quest'altra ipotesi se dovesse concretizzarsi quest'altra ipotesi che vieterebbe a Google di stipulare questi accordi con Mozilla Foundation beh Mozilla Foundation finirebbe nei guai finirebbe subito nei guai perché sapete bene l'81% praticamente delle entrate della Mozilla Foundation sono derivate da questo accordo con Google quindi perdere una cosa del genere significerebbe perdere una caterva di soldi per Mozilla Foundation e in questo caso c'è la paura che questo possa avere ripercussioni negative su Firefox ecco perché poi ve l'avevo detto anche nelle scorse puntate del podcast sto guardandomi un po' intorno sto guardando qualche altro browser da poter utilizzare e sto facendo delle prove sia con Vivaldi che con Brave Browser ancora non mi decido a quei due affidarmi come browser di scorta perché sono un po' combattuto tra l'anima criptocosa di Brave e l'anima un po' chiusa di Vivaldi non è completamente software open source perché hanno blindato diciamo così la parte dell'interfaccia grafica fra l'altro vi anticipo anche una cosa sto organizzando una nuova intervista con il team di Vivaldi ve ne avevo fatta tantissimi anni fa una intervista al team di Vivaldi proprio quando era nato questo browser e adesso voglio provare a reintervistarvi per chiedergli come sta andando lo sviluppo del browser insomma sugli scenari futuri anche per chiedergli informazioni riguardo a questo se voi avete suggerimenti su domande da porvi fatemelo sapere magari lasciate un commento e aiutatemi a rendere poi questa intervista la più esaustiva possibile ah poi apre e chiudo un'altra piccola parentesi sto vedendo che anche altre realtà stanno mettendo i bastoni tra le ruote a Firefox perché l'altro giorno leggevo su Reddit una discussione riguardante una notifica che sta venendo fuori agli utenti che utilizzano Firefox per accedere da dispositivo Android da mobile al sito di Facebook perché gli sta venendo fuori a queste persone un pop-up a meno negli Stati Uniti che gli dice che la versione mobile del sito di Facebook non è più supportata su Firefox mobile per Android e questi utenti sono invitati a utilizzare un browser diverso o in alternativa a scaricare direttamente applicazioni applicazioni ufficiali come Facebook o Facebook Lite e mi sta preoccupando questa cosa vi ricordatevi, ne avevo parlato anche il tempo fa per quanto riguarda la soglia di adozione di Firefox negli Stati Uniti che ci sarebbero stati problemi oh, c'ho paura che questo giorno si sta avvicinando pericolosamente perché se poi Facebook inizia a non supportarlo manco più attivamente oh, sono dolori e vabbè e parte centrale di questa puntata del podcast con due notizie riguardanti due software che si sono aggiornati il primo software che è stato aggiornato in questa settimana è Blender che giunge alla versione 4.3 Blender ormai lo conoscete è il software di modellazione grafica 3D gratuito, moltifiattaforma, open source che vi consente di fare arte e anche di lavorare anche addirittura ci sono alcune guide Blender per l'architettura quindi è potentissimo e versatile questo software Blender 4.3 introduce numerose nuove funzionalità e miglioramenti tra le principali novità ci sono il supporto per il light linking e lo shadow linking nel render EV un nuovo nodo metallic BSDF e un nodo di texture grab or noise per creare rumore procedurale se anche voi non ci avete capito niente come il sottoscritto di tutte queste cose vi invito a cliccare sul link presente su Marcosbox alle note di rilascio dove sono spiegate tutte queste nuove funzionalità quindi ci sono anche immagini per meglio capire a che cosa ci riferiamo troviamo poi inoltre un video che vi ho allegato nella notizia che vi fa vedere anche queste novità che vi spiego in maniera un po' più semplice da fruire voi utilizzate Blender? il Blender è diventato praticamente uno dei software più anche che crea attrattività da parte di supporter esterni e mi fa piacere una perla del software open source bello bello e io fino alla fine devo iniziare a svanettarci seriamente perché faccio giusto poche cose giusti comandi base devo iniziare a utilizzare perché puoi fare tante cose e puoi farlo anche per l'architettura io sono un geometra quindi potrebbe interessarmi questa cosa e un altro software che potrebbe interessare molti di voi è FreeCAD che dopo 22 anni per la precisione di sviluppo è stata finalmente rilasciata la versione 1.0 di FreeCAD l'annuncio è stato fatto qualche giorno fa questa prima versione stabile di FreeCAD offre diverse nuove funzionalità miglioramenti all'interfaccia utente miglioramenti anche per i moduli i moduli che compongono il software per la realizzazione di tutte le componenti che potete disegnare con FreeCAD FreeCAD è un CAD di disegno e progettazione tridimensionale parametrico che supporta anche il BIM quindi molto importante molto in voga in questo momento il software BIM anche in Italia per via dei recenti sviluppi normativi e anche ha il supporto in metodo degli elementi finiti se siete strettamente collegati con l'architettura con il sottoscritto, con la pianimetria e quant'altro non è il software che vi serve per disegnare cose architettoniche però potete fare tantissima roba, roba meccanica potete utilizzarlo anche per fare dei rendering di palazzine e quant'altro perché si può fare anche con questo ci sono anche degli esempi che potete lanciare direttamente gli esempi già fatti nella libreria di FreeCAD vabbè, per maggiori informazioni su FreeCAD 1.0 vi invito a leggere le note di rilascio ufficiali e guardarvi anche il video collegato sulle pagine di Marcosbox che vi fa capire meglio quali sono le novità di questo software peccato che non ci sia nessun software software dedicato al CAD per gli utenti come me che hanno bisogno di un CAD, quello classico, quello 2D chissà, 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 se magari nel futuro li vedremo c'è un software che magari vi parlerò fra qualche settimana che ho intenzione di fare una video recensione però è poca roba mannaggia che non ci stanno sviluppatori in grado di fare una cosa del genere per noi utenti che siamo una nicchia nella nicchia perché trovate all'interno del mondo Linux che già è una nicchia puoi trovare la nicchia di quelli che hanno bisogno di CAD per il disegno c'è QCAD sì, però diciamo così non è molto potente così come c'è LibreCAD il cui sviluppo è in perenne ritardo rispetto alle promesse iniziali non abbiamo tanti software, purtroppo vabbè, comunque cambiamo argomento cambiamo argomento con la parte finale di questa puntata parlando di distribuzioni Linux c'è stato il rilascio di Alma Linux OS 9.5 c'è stato anche il rilascio di Rocky Linux 9.5 che cosa significa questo 9.5 nel nome? beh, che questa nuova versione di Alma Linux così come la versione di Rocky Linux è completamente compatibile con Red Hat Enterprise Linux 9.5 questa nuova versione di Alma Linux introduce diverse modifiche a volte a migliorare le prestazioni strumenti di sviluppo e la sicurezza e insomma le solite cose che vengono vengono dette ad ogni nuovo rilascio vi invito anche in questo caso a leggere il change log completo che trovate linkato sulle pagine di Marcosbox e vi invito soprattutto a farmi sapere se utilizzate questa distribuzione perché molti di voi che so che molti di voi sono migrati ad Alma Linux e voglio un po' capire da voi il vostro parere su Alma Linux magari se avete provato anche Rocky Linux insomma fatemi capire quali sono tra le due alternative a Red Hat Enterprise Linux quali sono quelle che migliori quelle che vi sentite voi di consigliare perché spesso mi viene chiesto consiglio io non so dare un consiglio perché non utilizzo queste distribuzioni perché non sono un sistemista e quindi mi ritrovo un po' spiazzato nel dare consigli quindi commenti sulle pagine di Marcosbox sotto al video e sbizzarritevi voi e passiamo adesso a una notizia riguardante Ubuntu Ubuntu 20.04 LTS nome in codice Focal Fossa terminerà il supporto standard ad aprile 2025 che cosa significa questo? è che dopo aprile 2025 dopo questa data non verranno più rilasciati aggiornamenti di sicurezza regolari mettendo a rischio quindi la sicurezza dei sistemi che usano questa versione ovviamente non tutto è perduto non tutto è perduto perché come ben saprete abbiamo diverse opzioni per poter andare avanti la prima opzione consiste nel passare ovviamente alla LTS successiva quindi se volete potete aggiornare a partire da quella data Ubuntu 24.04 LTS quindi godere di rilasci di aggiornamenti di supporto fino insomma al 2029 quindi a voi altri tanti anni altrimenti se proprio avete la necessità specifica di utilizzare Ubuntu 20.04 20.04 LTS per non so quale motivo aziendale o quant'altro potete comunque avvalervi della funzionata di ESM ESM di Ubuntu Pro ovvero Expanded Security Maintenance che vi consente di ricevere aggiornamenti fino addirittura al 2032 vi ricordo che Ubuntu Pro è uno strumento che è gratuito per uso personale fino a 5 dispositivi quindi se siete una piccola realtà se siete uno sviluppatore indipendente potete utilizzarlo gratuitamente quindi non dovete pagare niente e che cosa vi consente di avere Ubuntu Pro vi consente di avere patch per pacchetti principali e non principali quindi per tanti tanti anni a venire a voi la scelta di che cosa fare e concludiamo questa puntata con una notizia di colore ve ne avevo detto all'inizio di puntata ve ne avevo parlato una notizia riguardante Ubuntu 24.10 e il bug ho titolato così il post il bug del uccello sbagliato perché ho titolato il post in questa maniera perché facciamo un rapido escursus sapete che tutte quante le versioni di Ubuntu portano un nome in codice formato da un aggettivo più il nome di un animale totemico che viene associato di volta in volta alla distribuzione Ubuntu 24.10 aveva come animale totemico anzi ha come animale totemico l'Oriole che è un praticamente un uccello appartenente alla famiglia dell'ordine dei passeriformi che ha una forma cioè ha una un eccello ben specifico ecco mi stavo stavo per fare una gaffe qual è la caratteristica del gorriole ha determinati colori un determinato il piumaggio appartiene a una famiglia specifica un ordine specifico di di passeriformi e quindi è diverso da altri tipi di uccelli giusto? perché sapete in ornitologia ci sono ci sono tante famiglie di uccelli e quant'altro e spesso però uno può fare confusione con con gli uccelli infatti stanno gli appassionati i beardwatching che sono lì proprio a cercare tutti quanti di individuare tutti quanti gli uccelli insomma per completare i loro pokedex degli uccelli e hanno preso un abbaglio anche quelli di ubuntu forse sulla fiducia non lo so anche perché è successo anche perché abbastava poco con una ricerca per immagini su google per trovare per capire che quello che era stato fatto che quello che è stato postato su ubuntu era una cosa sbagliata perché un utente si è accorto che uno degli sfondi predefiniti di ubuntu 24.10 non non rappresenta un oriore ma rappresenta un ciuffolotto che è una specie completamente differente mi fido di quello che ha detto che è completamente differente per me se li vedo sono tutti quanti uguali e ha detto appunto ha fatto notare questa cosa e ha postato su launchpad un bug bug che è stato anche confermato e che vediamo un po' se si è stato confermato ancora non non ci sono risoluzioni per questo per questo bug quindi su punto 24.10 vi ritroverete un uccello totemico sbagliato non è tutti quanti adesso cioè veramente è una cosa triste se ci pensate proprio noi siamo stati ingannati tutti quanti dicevamo quello è un oriolo adesso abbiamo nella nostra mente questo uccello che vedete qui che per noi è un oriolo perché ce l'ha detto un oriolo ma in realtà non è un oriolo ma è un ciuffolotto siamo stati ingannati tutti quanti abbiamo fatto anche figure di merda quanti di voi avevano fatto figure di merda in mezzo alla strada dice io conosco sì un oriolo sì un oriolo magari il vicino che ci ascoltava dice ma che cavolo dici quello non è un oriolo e noi invece no quello abbiamo visto su punto vabbè scherzi scherzi a parte comunque fa ridere questa cosa fa ridere quest'errore di volatica fa ridere il fatto che qualcuno abbia segnalato il bug per cercare di risolvere il problema dello sfondo sbagliato chissà come farà fatto se verrà sostituito questo sfondo ufficiale verrà messo uno con un oriolo vedremo vedremo come si avverrà la cosa vabbè e dopo questa ultima notizia si conclude qui questa puntata del podcast di marcus box io come sempre vi invito a seguirmi numerosi sui social mi trovate su facebook su twitter su youtube mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting mi trovate su linkedin mi trovate su mastodon con il mio profilo personale mi trovate soprattutto su telegram stai zitto alexa anzi questa non è alexa questa era google che si è attivato alla alla parte scusate stava continuando a trascrivere dicevo mi trovate soprattutto su telegram dove è attivo il canale telegram con le notizie che potete utilizzare anche a modi feed reader se siete agregici ai feed reader trovate poi una community di telegram di direttore di marcus box che vi invito a iscrivervi numerosi perché non si parla soltanto di di linux c'è il cazzaggio libro ci sono due o tre regolette basse ma per il resto potete fare quello che volete ed è bello perché poi delle volte si parte si iniziano discorsi su argomenti più disparati ed è bello anche arricchirsi personalmente scoprendo nuove cose e trovate poi un canale dedicato alle offerte amazon con link sponsorizzati come ben saprete se acquistate da uno dei link sponsorizzati dai link referral amazon mi restituisce una piccola percentuale per voi non cambia niente per me non cambia perché mi supportate nell'acquisto di nuovo ad ho anche acquistato la scheda video nuova di storia mi sta abbandonando grazie anche al vostro supporto l'ho acquistata quindi grazie per questo potete supportare i blog anche acquistando rinnovando la vpn su nord vpn vediamo vi faccio vedere adesso qual è l'offerta del momento con il black friday con il black friday in questo momento trovate un'offerta che vi fa fino al 74% di sconto sul piano biennale vi da anche 3 mesi extra quindi praticamente viene a finire la vpn 2,99 euro al mese quindi una sciocchezza la vpn sapete a che cosa servono servono per aumentare la sicurezza quando ci condettiamo a reti non sicure quindi reti pubbliche e quant'altro ma servono anche a tanti altri scopi perché per esempio con nord vpn abbiamo anche un filtro che ci consente di bloccare la pubblicità durante la navigazione abbiamo anche una funzionalità che ci consente di scambiare file tra computer connessi alla stessa rete e mese quindi la vpn non serve soltanto a quello che poteste pensare comunemente durante i viaggi e quant'altro vi serve anche normalmente nella vita di tutti i giorni per altre operazioni quindi fateci un pensiero se avete bisogno di una vpn nord vpn è la vpn che fa a caso vostro vi lascio poi qui in descrizione il link per poter attivare o rinnovare nord vpn dal link affiliazione e infine vi ricordo che potete anche supportare il blog acquistando un computer da geekom e potete farlo con il codice sconto gk marco 15 che vi consentirà di avere anche un risparmio sull'acquisto di un mini pc da geekom perché vi consentirà di avere ben il 15% di sconto quindi sono soldini sono soldoni anzi che vi possono sempre fare essere utili meglio i soldi in tasca che no i soldi in tasca da altre persone come dico sempre io e vabbè lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la nuova puntata del podcast di marcos blog e ci vediamo poi sulle pagine del blog quotidianamente ciao ciao